asteroide 1998 hl 1 oggi passerà a soli 6,2 milioni di chilometri dal nostro pianeta la terra prepariamoci dunque precisamente passerà vicino al nostro pianeta alle ore 19 e 21 potrà essere guardato in diretta su internet sul web tutti pronti dunque la distanza viene dichiarata come una distanza che è sicura è una distanza di sicurezza ma comunque sufficiente da come si legge qui su internet per classificare questo asteroide come addirittura potenzialmente pericoloso tutti quanti dunque pronti per vedere l'asteroide 1998 hl 1 che passerà ripeto a 6,2 milioni di chilometri della terra andandola a sfiorare grazie a tutti il video di oggi termina qua ditemi le vostre opinioni datemi le vostre opinioni un salutone caro d'aleandro alias il vostro narratore italiano di youtube italia